Siamo qui un fetichario al Bosco, grande partita da tua oggi, complimenti. Come l'hai vista? Grazie mille, è stata una partita bellissima, vabbè, si ha visto tutta la gente che ci sta con noi, è davvero come avere un altro giocatore in campo, sono felicissima, è stata una partita bellissima, l'ambiente, tutto, veramente felice. Siete uscite anche a far fronte all'assenza di Spampinato e di Vaniuk? Vabbè, ci mancano due giocatrici veramente importanti per noi, ma abbiamo dimostrato che siamo una squadra, abbiamo bisogno di tutte e di tutte e ce la possiamo fare. Qual è la prossima partita contro un'altra squadra molto importante? Presentacela tu, già ora. Vabbè, la prima partita, abbiamo parlato già un po' della prima partita con la squadra, ci stiamo preparando, però come ti dico, se siamo insieme, sicuramente torna Giulia per la prossima partita, ce la faremo. Perfetto, grazie mille per io e con te ancora. Ciao.